Chiuso un centro per minori stranieri non accompagnati a Trieste, diverse irregolarità riscontrate in cinque strutture d'accoglienza tra il capoluogo Grado e il Friuli, sanzioni per un totale di 13 mila euro. Sono i risultati dell'operazione condotta dai NAS del Comando Carabinieri per la tutela della salute che ha messo sotto la lente in regione 15 tra centri per minori e case di riposo. Le carenze maggiori in termini di igiene dei locali e di sovraffollamento sono state trovate nella comunità per minori stranieri non accompagnati di via Carducci a Trieste che al momento del controllo effettuato da Carabinieri, Asugi e Servizi Sociali del Comune ospitava una ventina di persone. Alla cooperativa che la gestiva è stata revocata l'autorizzazione, il responsabile è stato denunciato e la struttura è stata chiusa su disposizione del Comune di Trieste che ora, ha riferito l'assessore al welfare Massimo Tognolli, sta provvedendo a smistare i giovani ospiti in altri centri della città. In un'altra comunità per minori, sempre a Trieste, sono state accertate irregolarità in merito alla formazione degli operatori e alla designazione degli addetti alle emergenze. Lo stesso tipo di carenze è stato trovato anche in una casa per minori che si trova in Alto Friuli, mentre in una struttura analoga nel Medio Friuli è stato denunciato il responsabile per una serie di violazioni, fra cui il mancato aggiornamento del piano antincendio. Infine a Grado è stata sanzionata una casa di riposo per il mancato rispetto dei tempi di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi.